Riduzione Tari 2020. Un aiuto concreto per le attività produttive. L'amministrazione comunale di Mazzara del Vallo, viste le difficoltà dell'anno in corso a causa del Covid-19, ha deciso di ridurre la tassa di smaltimento rifiuti per l'anno 2020. La riduzione sarà di 4 o di 8 dodicesimi e si può richiedere entro il 30 ottobre 2020. Il modulo per la domanda di riduzione Tari è disponibile sulla home page del sito del Comune www.comune.mazzaradelvallo.tp.it